Pasqua è passata veramente da poco e sicuramente qualche scompenso alimentare c'è stato, ma uscire e farsi un giro soprattutto in una giornata festiva è sempre una buona occasione. Buona tutti conosciamo ovviamente per storia e tradizione la pizza, questo piatto così famoso che poi ci arriva da Napoli ma affonda le sue origini nell'antica Grecia, ma c'è chi ha lavorato su questo tema e ne ha fatto veramente una ricerca gastronomica di grande livello ed è uno di questi personaggi e un pizzaiolo tricaricese che si chiama Paolo Infantino, detto Zolfanello, Zolfanid dovrebbe essere la pronuncia, che è qui con me, benvenuto Paolo Infantino. Io so che lei ha lavorato molto in tutti i campi della gastronomia, però in particolare come pizzaiolo ha fatto delle ricerche sulla qualità dei cibi, in che cosa consistono? Parliamone un po', io vedo tra l'altro una pizza qui davanti a noi. Certo, questa pizza l'ho ideata con grani antichi, in particolare con il grano senatore Cappelli che da poco si è rivalutato di nuovo, questo progetto nasce circa due anni fa con l'assessore all'agricoltura Luca Braia che disse a me, un giorno lo incontrai e disse Paolo visto che sei così bravo, perché non ti inventi una pizza interamente lucana? Da quel giorno è nata questa scommessa di prove e tante prove, ho detto vabbè ma come facciamo questa pizza? No perché non la fai interamente lucana con i grani lucani? Ho detto beh un grano che può andare bene, c'è il carosella, ho detto il senatore Cappelli può andare bene, certo Paolo inizia a fare le tue prove e vediamo cosa ne esce fuori. Il grano tra l'altro è importantissimo, conosciuto. Perché è stato tolto via dal commercio perché come sapete con i grani nuovi si fanno circa 40 quintali ad ettaro, quindi un'agricoltura che deve raccogliere dopo di un anno di lavoro 15 quintali ad ettaro non conviene, l'impresa non ne vale la spesa. Questo è chiaro che l'impresa non ne vale la spesa, però se uno poi è un degustatore di un prodotto con il grano senatore Cappelli dovrà pagare qualcosa di più, insomma. Certo, e devo dire che... Ma non è solo il grano, perché anche per esempio la mozzarella di questa pizza, da dove viene? La mozzarella di questa pizza viene dal casificio a Batangelo di Grassano che usa il latte di Giuseppe Caravelli che è stato premiato come miglior latte della Basilicata. E poi ancora c'è anche altri prodotti, in particolare dal suino nero ricavate la pancetta. Certo, certo, che è un suino originario del Cosentino che è stato rivalutato anche, l'ha rivalutato anche la comunità montana di Tricarico con il dottor Giovanni Fiorentino che adesso questo prodotto sta andando molto bene e il salumificio Carbone di Tricarico lo sta rivalutando alla grande. E quindi poi vedo stracciatella, mozzarella, gli asparagi selvatici, insomma è veramente appetitosa. E poi ci sono i funghi porcini, ma c'è anche la crema di zafferano. Certo. Perché noi abbiamo lo zafferano in Basilicata. Certo, in antichità, nessuno lo sa, ma veniva coltivato lo zafferano. Ha avuto il DOP in un'altra regione d'Italia, ma Tricarico ha avuto anche in antichità, infatti si stanno facendo questo che lo produce, sta facendo delle ricerche, si sta documentando perché pare che il primo zafferano veniva coltivato in Basilicata. Si chiama Zafferano Collina Lucana e Giuseppe Montesano è un grande matematico che della sua passione ha fatto anche la passione per la coltivazione dello zafferano. E' iniziato prima che produceva pochissimo zafferano, ha provato sul balcone di casa, piantando due bulbetti questa storia. E poi man mano è nata la passione in questa persona che è... Mentre faceva le sue operazioni algebriche e matematiche. Certo, certo. Bello. Pare che sta facendo delle ricerche anche con le università perché lui ha a bassa umidità questo zafferano, quindi è proprio puro. Infatti quando lo vado per utilizzare basta una poca polverina che subito si ingiallisce. E quindi immediatamente anche il zafferano. E ha un profumo immenso. Ecco, questa pizza è stata presentata a un campionato mondiale di pizza al fungo che si è tenuta a gravina in Puglia qualche giorno fa, insomma. Devo dire che... Come si è classificata? Al primo posto. Al primo posto. Ma la coppa che vediamo è quella? È quella, è quella. Allora la coppa, e si intravede nell'inquadratura, è quella del campionato mondiale di pizza al fungo. Dove eravamo circa 240 partecipanti e ho voluto gareggiare con la categoria senatore Cappelli perché questo grano, come vi ho detto, è molto difficile, questa farina è molto difficile da lavorare perché non lega bene, essendo un grano povero di glutine, una farina povera di glutine, è molto importante perché è anche a basso contenuto glicemico. E tra l'altro è anche a basso contenuto di glutine e risolve alla partenza i problemi tanti che ci sono ormai. Tante volte, infatti, c'è questo aumento di persone che sono intolleranti al glutine proprio perché l'impasto non viene maturato, perché la maturazione e la levitazione sono due cose distinte e separate. Insomma, è un bel risultato, ci fa piacere, ci onora tra l'altro come regione, ma è tutto il territorio che ne deve essere contento, anche il territorio della Puglia, Apolo Lucano, siamo ai confini e quindi non chiudiamo mai le porte a nessuno. Ma a questo punto, Paolo Infantino, ci dica se io devo venire a mangiare questa specialità, questa prelibatezza o altre, come faccio? Vengo a tricarico? Certo, però stiamo facendo un protocollo di intesa con la regione Basilicata che in tutte le pizzerie dobbiamo promuovere questa pizza interamente lucana con il grano senatore Cappelli. Ci sono molte aziende che lo producono, però devo dire la verità, quello che mi ha soddisfatto di più è l'azienda Vignola di Grassano. Adesso, con i vari accorgimenti, siamo riusciti ad avere la giusta dose per farla legare anche molto bene. Quindi, avete visto, abbiamo anche raccontato i produttori e non per fare pubblicità, ma proprio perché è giusto il merito che debba andare loro, perché producono queste cose veramente antiche, particolari, con le quali si può fare una pizza tipica, specialistica. E questa qui, visto che è un grano particolare, il procedimento l'ho fatto con la biga, che è un preimpasto, che si inizia a fermentare, inizia la sua fase fermentativa, così dà più sapore alla mollica. Allora, Infantino, sono arrivato, siamo arrivati, perché penso che qualcuno si aggregherà a tricarico. Chiediamo direttamente di Paolo Infantino, oppure possiamo andare in un posto? Per mangiare la pizza. Basta che fate il mio nome, penso che sono riuscito sia a tricarico che in tutta la Basilicata. Benissimo, allora, a tutti quanti voi che ci state seguendo in Basilicata e in Puglia, ricordatevi, Tricalico, antico paese con origini eccezionali, Roberto il Guiscardo, la cattedrale di Tricalico, Rocco Scotellaro, il poeta contadino, ma anche gastronomia. Paolo Infantino è lì che vi può servire una pizza davvero unica. Andate, chiedete in piazza, solamente un giorno ci sarà un giorno di riposo, evitiamo quello. Sì, lunedì, lunedì. Infatti molti mi chiamano anche lunedì e mi dicono, Paolo ma si è aperto stasera? Dico io, ma almeno è lunedì. Allora glielo diciamo, non andate lunedì. Casomai andateci oggi che è domenica, arrivateci di corsa, così facciamo anche questo. Bene, io ringrazio Paolo Infantino per essere stato con noi, per averci raccontato di questa iniziativa gastronomica davvero particolare e per quel che riguarda noi, tra una pizza davvero unica e un bicchiere di vino buono che potrà accompagnarla, vi dico come al solito, alla prossima! Grazie! Grazie!